Salenitana Provercelli 1-2, una sconfitta, un gol di Donnarumma, il quinto, ma cosa succede e cosa bisogna fare per vincere? Innanzitutto la cosa più facile che in questo momento uno potrebbe dire è che bisogna cambiare il giocatore. Ma visto che questa cosa non si può fare, si incomincia a dire che le coppe vanno un po' divise a tutti i reparti. Cioè vanno a dire allenatori, giocatori, direttori sportivi e soprattutto la società. Perché guarda, io ti dico una cosa, ieri sono ritornato a casa molto amareggiato, ma non per il fatto di perdere, perché si può anche perdere. Perdere una squadra che ti metta sotto è una cosa onorevole, ma perdere per una squadra che sicuramente non era migliore di noi, ma ti lascia a far capire che effettivamente la Salenitana è molto, ma molto, molto più scarsa degli altri. Ieri abbiamo preso, ma voglio dire il primo gol, può essere pure l'importuno difensivo, ma il secondo gol, ma voi pensate al secondo gol che cosa è successo? Quattro di noi, un solo attaccando loro, fanno fare il gol al centroavanti. Ma è assoluto, è assoluto, bisogna comunque vedere qualche cosa. Torrente sta provando tante cose, ma io non mi permetto di giudicare Torrente o quantomeno di dare consigli a Torrente, perché io calcisticamente non ne capisco, io parlo da tiposo, ma visto che sta provando tante situazioni, la vogliamo addebitare sempre alla sportuna, un po' per gli abbi, un po' per gli altri, un po' per l'importuno, ma visto che noi non teniamo, Colombo sta effettivamente facendo ridere, Colombo sta facendo ridere. Non vede perché, ha perso solo Colombo, ha perso solo Pollaccio, ma parla di Pollaccio perché è l'unico terzino difensore che teniamo. Parla di Pollaccio, ma non perché, io non lo conosco, però sia Pollaccio ha sbagliato a Crotone, un'altra chance, come l'ha stata dando agli altri. Ma la società deve intervenire sul mercato? La società ha fatto queste dichiarazioni perché so che queste mittende sicuramente mezza Roma, lo titola la legge, l'ascolta, ma soprattutto dico che la società a gennaio deve intervenire perché è una squadra che bisogna mettere in forza, perché è una squadra, è vero che è stata fatta, non so l'altestà di criticare ai singoli, ma questa è una squadra che non sta andando bene e anche l'allenatore bisogna, oggi sono un po' polemica perché ieri sera ti ripeto, pensavo che fino all'altro sabbio pensavo che la società non stava in ripresa, ho visto una squadra che effettivamente non stava in ripresa, una squadra scarsissima, una squadra che non tiene mordente, una squadra che secondo me mi assuma le mie responsabilità, secondo me ci sa anche qualche cosa a livello di spagnolo o qualche cosa a livello personale.